6 giugno 2000. A Chiavenna, in provincia di Sondrio, Milena, Ambra e Veronica, tre amiche di 16 e 17 anni, massacrano senza alcun motivo, con 19 coltellate, una religiosa di 61 anni, Suor Maria Laura Mainetti, superiora dell'Istituto dell'Immacolata. Un delitto compiuto a detta delle ragazze nel nome di Satana. Il delitto di Chiavenna diventa il simbolo di un vivere senza senso da parte di una gioventù vuota e assillata dalla noia. Delle tre ragazze, due sono state condannate a otto anni e Ambra, la leader del gruppo, ha dieci anni di carcere.